ciao io sono chiara e benvenuti nel mio canale oggi un altro appuntamento con clover vedremo insieme passo passo come realizzare queste coccarde usando the bow maker allora nella confezione faccio vedere questa media di media misura c'è anche large e small troverete queste due stelle più questo triangolino stelle a 7 punte a 5 e il triangolo nella confezione poi trovate ovviamente tutte le istruzioni che adesso vedremo insieme sono in inglese ma sono veramente semplici e facili da seguire munitevi anche di un semplice ago e filo con cui poi appunteremo vedrete nel tutorial e un paio di forbici e naturalmente un nastro a vostra scelta vediamo un pochino queste istruzioni come si presentano intanto in alto vedete a sinistra avete questa tabella dove sono espresse tutte le misure anche delle altre taglie diciamo delle altre misure s e l noi faremo media vi ricordo eccola qui e sono queste rosa per questa dimostrazione userò intanto questa a 5 punte eccola qui è molto semplice da usare credetemi più facile da fare che da spiegare qua sono espressi tutti i giri però adesso vedrete che bisogna avere un'unica accortezza e poi sarà molto semplice allora prendiamo il nostro nastro lo inseriamo vedete da dietro in avanti in questa maniera e andiamo a girare intorno alla punta il nostro nastro vedete rifaccio un attimo questo passaggio quindi infilo il nastro in questo modo lo tengo fermo e giro vedete a questo punto giro la stella e mi troverò vedete la punta proprio parallela non faccio altro che girare intorno a questa punta rigiro vedete giro ancora intorno alla punta giro nuovamente e mi trovo parallelamente nell'altra punta da lavorare naturalmente più giri fate quindi non dovete fare solo un giro dipende poi che cosa volete fare però se fate più di un giro nel mio caso assieme farò due per farvi vedere la dimostrazione naturalmente la coccarda verrà un po più gonfia no un po più più bella una volta che avete fatto tutti i giri che vi occorrono prendiamo il nostro ago e filo se potete usate un filo doppio o un po più resistente non facciamo altro che passare adesso io qua farò una cucitura con un colore chiaro per farvi vedere ma ovviamente se poi riuscite ad avere lo stesso colore meglio perché si vedrà meno quindi andiamo a fare delle cuciture vedete in modo da fissare sia la parte dietro con quella davanti dopodiché facciamo qualche nodino e possiamo anche tagliare il filo a questo punto tagliato il filo tagliato la coccarda il nastro diciamo in eccesso siamo pronti a vedete a premere le punte perché non vi ho detto che le stelle sono flessibili proprio per questo motivo per consentirci poi di aprire bene la nostra stella ed ecco qua naturalmente con le mani apriamo bene tutti diciamo le punte della stella e per questo vi dicevo che più giri fate e più verrà una bella coccarda insomma più gonfia poi ripeto dovete sempre vedere cosa cosa dovete fare l'uso che ne dovete fare il tipo di nastro che usate eccetera eccetera mettiamo un attimo via da parte questa stella che riprenderemo dopo perché voglio farvi vedere tutto ciò reso meglio dalla combinazione di questi oggetti quindi prendendo il triangolo e qui ancora più semplice perché abbiamo appunto solo tre punte su cui girare quindi prendendo il nostro triangolino vedrete adesso come andiamo a montare la coccarda a renderla ancora più più carina lo stesso procedimento di prima naturalmente e poi andiamo a fissare nuovamente con l'ago tagliamo tutti i fili in assi in eccesso e adesso facciamo uscire il nostro triangolo le punte ripeto sono flessibili quindi non dovete avere paura di piegare non succede niente sono fatte apposta perché sul triangolo vedete si fa un pochino più di fatica ed ecco qua lo stesso concetto di aprire poi le punte e già vedete insomma che la coccarda ha preso un'altra forma molto più molto più carina diciamo così naturalmente quando ci sono queste combinazioni vanno ancorate con ago e filo o anche con un puntino di colla a caldo una volta cuciti insieme incollati insieme aprite bene tutte le punte del sia del triangolo che della stella 5 punte vedrete che la vostra coccarda diciamo avrà tutt'altro aspetto sarà possibile quindi combinare diversi tipi di nasi diversi colore qua sarà proprio della vostra creatività ma sicuramente la coccarda rende meglio se sono combinate tutte e tre le punte a questo proposito mi sono preparata anche quella sette punte tanto per farvi vedere l'ho fatto due giri e ho anche cucito già insieme le due estremità il davanti e il dietro insomma adesso vedete faccio uscire tutte le punte allargo sempre bene tutto quanto e vi voglio far vedere poi sovrapponendo le altre due un po' l'effetto che viene fuori ed ecco qua vedete poi vedrete voi come metterlo è veramente molto facile molto divertente ve lo assicuro e veramente vi potete sbizzarrire ecco qua questi sono i tre pezzi vi ricordo questo rose è la taglia media ma esiste anche large e small quindi ancora più piccolo poi è chiaro che potete mettere tutte le decorazioni del caso bottoni bottoncini charms proprio veramente potete sbizzarrirvi come vi pare questo tutorial termina qui io spero di esservi stata di aiuto non vi spaventate di queste istruzioni nelle confezioni in inglese perché sono veramente dettagliate e disegnate passo passo in ogni caso spero che questi tutorial anche quelli fatti in precedenza vi siano comunque di aiuto un'ultima cosa importantissima mi raccomando leggete l'info box sotto con tutti i link e se volete acquistare i prodotti clover vi consiglio di visitare il sito www.cloveritalia.it dove troverete tutti i rivenditori autorizzati sul nostro territorio quindi mi raccomando io ringrazio clover per questa opportunità ringrazio voi per l'attenzione vi lascio all'hand card e vi aspetto al prossimo video ciao 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 ciao